Il momento è unico, noi ci fidiamo dei magistrati e non dei giornali, mi dispiace, i magistrati mi sembra che non hanno rilevato nulla, per cui di che cosa stiamo parlando, grazie di tutto. E se invece la morale dovesse risultare in manata? Se fosse, se fosse, qui andiamo avanti sempre con i se fosse, andiamo giorno per giorno, Roma ha bisogno di questo, di lavorare, poi vedremo quello che succederà, ma non credo che succederà questa cosa comunque. Grazie ragazzi.